Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Rieccoci dalla nostra splendida postazione qui di Radio Bruno all'interno dell'area stile da Royal Hotel Sanremo con Giusy Ferreri e ciao e buongiorno a tutti una canzone grintosa bella che fa ricordare Giusy di un tempo però è anche la Giusy attuale sì è vero perché in realtà c'è stato proprio un lavoro di un mix un cocktail se così vogliamo chiamarlo si trapassato perché in realtà questa canzone fatalmente male un po' è come se fosse la sorella anche di novembre volevo te che comunque rimangono delle canzoni passionali per quanto riguarda il testo che hanno un po' leggermente quell'atmosfera retro nella melodia soprattutto negli incisi ma in realtà c'è la modernità della musica elettronica di questo mondo pop e poi ti dirò anche che su fatalmente male effettivamente il cocktail di autori c'è anche tra passate presente perché Roberto Casalino ha lavorato il testo e ha la melodia ed effettivamente lui è l'autore che per me ha firmato non ti scordarmi di me novembre anche tanti altri successi ti porto a cena con me che ho presentato anche Sanremo 2014 ma c'è anche la penna della scrittura musicale da parte di Takagi Ketra che hanno lavorato proprio alla realizzazione di questa base e sono gli stessi autori di Roma Bangkok della bellissima collaborazione con Baby K per cui sì c'è stata proprio una fusione che ha portato questa bella magia ecco una fusione autorale che ha messo un po' in difficoltà Maria De Filippi perché non sa proprio come dire questi autori se è stata una di quelle citate proprio nella sua conferenza stampa che è lì che ripassa come dire i tuoi autori sì perché sembrano quasi dei cognomi giapponesi no poi italianissimi e delle persone veramente molto molto simpatiche allora parliamo invece visto che stai già svelando il tuo nuovo lavoro che uscirà a marzo sì uscirà esattamente il 3 marzo questo album di inediti ci saranno 14 tracce sono molto contenta per cui trovo sia un progetto completo completo da rappresentare le mie anime cioè la prima metà che è un album che si presenta pop però è suddiviso diciamo da una prima metà molto molto solare molto fresca molto attuale e poi c'è l'altra metà più ricercata introspettiva con dei brani di maggiore peso stilistico anche a livello di composizione un po' più ricercata per cui è un lavoro che mi rappresenta pieno in pieno il quale stiamo lavorando effettivamente già da due anni e che poi si è intrufolato la raccolta con i 3 inediti e devo dire che anche questo tempo che è arrivato in più così a sorpresa perché ci siamo adeguati al grande successo di Roma Bangkok e allora praticamente ci ha permesso effettivamente di poterci dedicare con tutta la calma, la pazienza un grandissimo confronto di tanti autori anche autori con il quale non l'avevo collaborato precedentemente c'è una bellissima sorpresa anche c'è un brano scritto da Marco Masini che abbiamo incrociato proprio poco fa e poi anche una bellissima collaborazione con Federico Zampaione anche lui un brano che ha firmato per me ma che è anche presente in duetto e poi seguirà un tour o perlomeno ci sono già due date live? sì, ci saranno queste due anteprime live una è il 4 di aprile a Roma all'Auditorium Parco della Musica e poi il 12 aprile a Milano al Teatro Nuovo ottimo, ritorniamo a Sanremo per la serata delle cover hai scelto Fatti Bravo Fatti Bravo è il paradiso beh, insomma, pensare al panorama musicale italiano mi colpiscono sempre in particolar modo le figure femminili legate al passato perché in Italia siamo fortunati abbiamo delle personalità e voci molto forti come appunto Fatti Bravo se pensiamo, beh, la grandissima Mina poi anche, beh, voci e personalità come Mia Martini Giuni Russo tantissime forti personalità che sono passate tutte dal palco di Sanremo in questo caso, sì, ho pensato di divertirmi con uno dei brani appunto del repertorio di Patti anche perché nel suo repertorio ce n'erano di brani ricchi anche di questa atmosfera un po' grintosa e mi sembrava che è un brano che si avvicina bene anche al mio inedito che presenterò quest'anno Il percorso fino a sabato è intenso quest'anno come vivi questa gara? Ma la vivo, sono molto felice in realtà perché sento che è un momento giusto per ripropormi perché è la mia terza volta perché a distanza di qualche annetto, di tre anni l'ultimo l'ho fatto nel 2014 e il primo nel 2011 e soprattutto perché comunque con questo nuovo album di inediti e soprattutto dopo aver lanciato la prima raccolta Eats mi fa pensare proprio all'inizio di un nuovo capitolo e poterlo iniziare ad aprire sul palco di Sanremo mi sembra diciamo una bella fortuna Noi ti ringraziamo se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno Sì, saluto tutti gli amici di Radio Bruno e ci vediamo presto ai soliti nostri appuntamenti Ti aspettiamo, lo sai Grazie, grazie a Giuseppe Ferrer Grazie a tutti Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo in collaborazione con Grissin Bon Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile Biper Banca Campani Group Mondo Convenienza Modena Giochi e Rosanna Alpi La moda che si distingue Grazie a tutti